Il commento della stampa del giorno, buongiorno con occhio ai giornali. Sono le 7, questa è Fano TV sul canale 17 del digitale terrestre visibile in tutta la regione Marche. Cominciamo dal Santo di Oggi, poi il Tempo e i giornali appunto. Iniziamo dal cartello, oggi Santi Cristoforo e Magallanes, 24 compagni. Il sole è sorto alle 5.37, tramonterà alle 20.37. Sito della protezione civile delle Marche, per oggi venerdì ce lo sereno poco nuvoloso, con venti ancora sud orientali lungo la costa. Per la giornata di domani ancora cielo sereno poco nuvoloso, con vento forte in collina e lungo la costa. Domenica 23, domenica 23 ancora cielo sereno poco nuvoloso, ma continua a soffiare il vento. Peggioramento per la giornata di lunedì. Contagi finalmente in flessione, questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, anche a Pesaro, finora la provincia locomotiva curva in discesa, ma le vittime salgono a 3.000. È cominciata la formazione per i farmacisti e i vaccinatori, saranno pronti dalla metà di giugno. A centro pagina caccia i fondi per le nuove scuole, i progetti per i futuri plessi. A Erdorica, vertici verso il processo, archiviazione per tutti i politici. Un taglio agli affitti, il comune di Pesaro acquista beni per 3 milioni. La tartaruga salvata è tornata in mare alla Baia, alla Baia Flaminia, e dunque si fa festa. Poi a Fano, reddito di cittadinanza, progetti utili al palo, tinti, dice, ma è astruso. Sempre in prima sul Corriere, il mercante era il Corriere dell'Ascish dal Marocco. Rischia quasi 11 anni, giro di droga internazionale, il processo si svolge a Palermo, nell'aula bunker. Mentre la doccia fredda per i tifosi della VL, Repesia, l'allenatore, torna alla Fortitudo, quindi va a Bologna e la VL adesso punta su Sacchetti. Andiamo a vedere, infatti, il Carlino gli dedica la fotonotizia, la fuga di Repesia, questo è il titolo. Il coach croato accetta il contratto pluriennale dell'Aquila e torna a Bologna dopo 15 anni. Pesaro si prende una settimana di riflessione per la scelta del nuovo timoniere. Caso si legate, ora indaga la finanza, il New Jersey e i lavori interrotti, accertamenti dopo la denuncia presentata da un gruppo di cittadini. La politica, Morani sferza il PD, servono le primarie e lei si candida. C'è anche invece Federica Massei, Erdorica, altra bufera, 29 persone finiscono nei guai. A Muraglia fanno il vaccino ma si ritrovano con l'auto rimossa, rabbia e proteste. Coprifuoco alle 23, si allunga la notte ma non basta. Marche a quota 3.000 vittime, zona bianca. L'ipotesi per le Marche è il 14 di giugno, se i dati naturalmente lo consentiranno. Flaminia torna in mare, festa per la tartaruga. Era stata trovata a gennaio a Lido Pavarotti, mentre a Gradara, ragazzo morto in tre, finiscono sotto inchiesta. C'è anche la finanzata ventenne pesarese accusata di omicidio colposo. La cronaca di Macerati, la prima pagina di Macerati con la fotonotizia dedicata al re delle scarpe che è morto a 82 anni, stiamo parlando dell'imprenditore Andrea Santoni di Corridonia. Blizze contro gli estremistri di destra, 30 indagati e perquisizioni in 18 province, nel Mirino anche un sangiustese inneggiavano a Traili. Il Corriere Adriatico, come sempre, dedica alcune pagine alla situazione pandemica nella nostra regione. Andrea Taffi questa mattina fa il resoconto e ci informa che praticamente va avanti questo trend di flessione anche nel due province che sono un po' più lente nel diminuire il contagio, ovvero Pesaro e Ascoli Piceno, ma insiste questo trend di flessione, le vittime però salgono a 3.000, abbiamo toccato quota 3.000 dall'inizio di questa pandemia, dopo il segnale di lunedì discesa dei contagi confermate nelle province locomotiva, ieri i decessi di due uomini di 84 e 82 anni, entrambi avevano patologie pregresse. Per la cabina di regia all'Istituto Superiore di Sanità Marche in zona bianca, nella seconda metà di giugno. I pazienti negli ospedali scendono a quota 236, meno 24 rispetto a ieri. Moderna e Johnson & Johnson sono due vaccini, altri 23.000 dosi in magazzino, dunque buone notizie perché c'è un tesoretto, chiamiamolo così, dei vaccini, una doppia consegna che è arrivata ieri e si va verso un'accelerazione dunque delle somministrazioni. Ora le marche possono contare su un corposo tesoretto di vaccini che dovrebbe metterle al riparo, almeno per un po', da ulteriori frenate. La politica, Ceriscioli pronto a tornare, ma prima parli l'Assemblea, dice lui, e ora il PD va in fibrillazione. La transazione lenta è contestata di Gostoli, mentre l'ex governatore si scalda per il congresso. Ricci, Mancinelli, Agostini e Casini non parlano però, parla solo Alessia Morani che attacca e dice ma di quale restaurazione stiamo parlando? In sostanza, qui l'unica, mi pare a favore, ma non è una novità del rientro in scena di Ceriscioli sia la Fabri, ex senatrice fedelissima di Ceriscioli, che dice senza le dimissioni di Gostoli stiamo parlando ancora del nulla, su Ceriscioli è noto cosa io pensi e credo che il PD sarebbe cieco ancora di più dopo la sconfitta se rinunciasse a figure serie competenti come la sua. Senza allontanarsi da Pesaro, di tutt'altra opinione invece Alessia Morani che parla di quadro sconfortante, qualcuno nel PD pensa alla restaurazione del quadro politico che ci ha portato fin qui, quindi alla sconfitta eccetera eccetera una sonora bocciatura da nascondere come polvere sotto il tappeto serve un congresso, dice la Morani, di rifondazione del partito aprirci alle civiche e alle parti sociali poi primarie per il segretario basta equilibrismi e il tempo del coraggio e della generosità l'anteprima, l'anticipazione arrivata ieri come vedete dalla pagina, da questo riquadro la battaglia sui resti del PD e il fantasma di Ceriscioli ora legge sulla segreteria, è un fantasma che a quanto pare fa paura la cronaca con questa tragedia che si è consumata qualche tempo fa a Gradara ragazzo morto, tre indagati, c'è anche la fidanzata la tragedia di Mattia Epifane, 18 anni inchiesta per omicidio colposo nei confronti della ragazza ma anche del padre e del pusher quindi scrive Elisabetta Rossi il padre, il pusher e la fidanzata sono i tre indagati dalla procura di Pesaro per la morte di questo 18enne di Rimini residente a Casalecchio di Reno trovato in fin di vita lo scorso 28 agosto in casa della fidanzata a Gradara ed è ceduto all'ospedale di Pesaro omicidio colposo il reato contestato alla fidanzata ventenne pesarese di Mattia ci sono infatti due ore di buco tra la scoperta del giovane in stato di incoscienza nell'appartamento di famiglia della ragazza e la chiamata al 118 dunque la chiamata dei soccorsi la mamma di questo ragazzo che non c'è più dice la fidanzata deve rispondere anche di omissione di soccorso perché ha visto che mio figlio stava male ma non ha fatto nulla per praticamente due ore c'è un'altra storia un'altra storia terribile che riguarda una relazione una relazione che inizialmente è partita con tanto affetto tanto amore, tanti baci come le più belle favole di quelle raccontate dalla Disney poi in realtà si è tramutata in un film dell'orrore peggio di quelli di Dario Argento relazione shock, finanzato a processo il racconto di lei lei ha 15 anni lui quasi il doppio lei di Fano lui originario del Marocco ospite di una comunità nella zona si conoscono su Facebook quindi su internet si sono conosciuti lì lui finisce a processo però per violenza sessuale e lesioni sempre l'articolo di Elisabetta Rossi lei arriva in aula con il pancione a raccontare di quella storia che era cominciata appunto come una favola tra fughe d'amore però gelosia, botte, ferite e un arresto è finita in tribunale ieri è stato il giorno della ragazzina e dei genitori lei è al settimo mese di gravidanza abbiamo detto che questo incontro è avvenuto circa un anno fa sui social e Elisabetta Rossi racconta un po' come che cosa ha ascoltato cosa ho sentito ieri in tribunale e dunque la storia la storia davvero triste di questa vicenda Bocconi avvelenati andiamo invece sulla Sant'Angelo Invado perché sulla pagina di Vallefoglia c'è questo articolo e ultimamente se ne leggono diversi evidentemente c'è qualcosa nella mente di queste persone che si divertono a riempire Bocconi con sostanze tossiche tipo il lumachicida metaldeide insomma sono tutte sostanze che chiaramente uccidono gli animali che dovessero appunto ingerirli e in questo caso ha rischiato Grossi una cagnolina che insomma l'ha vista brutta tra l'altro sempre Sant'Angelo Invado non è il primo caso di posizionamento di Bocconi in quest'area pubblica nel parco Viscera quindi esattamente un anno fa si è verificata la morte di un cane per ingestione di carne appunto con il lumachicida ritrovata nel parco occultata tra l'erba alta ecco quindi gli investigatori dicono in questi casi avvertite prontamente perché comunque abbiamo così forse più tempo per fare meglio le indagini perché se poi si lasciano passare i giorni anche le prove quant'altro è più difficile recuperarle il papà dell'aggredito siamo sulla pagina di Fano un'altra vicenda che ha avuto risvolti un eco nazionale stiamo parlando di quel giovane che ha difeso il suo compagno il giovane che è finito all'ospedale è un minorenne 17 anni il ragazzo l'amico 18 l'amico era quel famoso ragazzo con lo smalto alle alle mani ma qui lo smalto non c'entra niente come non c'entra niente l'omofobia e tutte queste cose qua ma andiamo un attimo sul titolo il papà dell'aggredito quei momenti di terrore parla a Giuseppe che racconta l'incubo del pestaggio di suo figlio alla Rocca dobbiamo ringraziare quella persona che è chiamato il 112 la migliore gioventù può rimettere a posto le cose fa bene giustamente questo papà immaginiamo il dolore la prensione in quei momenti mentre era a fianco di suo figlio all'ospedale in quella barella certamente fa bene a in qualche modo portare avanti la sua testimonianza fa bene a denunciarlo anche pubblicamente attraverso i mezzi di informazione ma immagino anche quanto sia difficile mettere sempre le cose in fila per evitare che qualcuno strumentalizzi troppo la vicenda così come è accaduto perché poi ovviamente come scrive Tiziana Padrelli questa mattina da quel momento cioè dal momento in cui è accaduto questa vicenda la Rocca Malatestiana dove questo gruppo di giovani ha aggredito senza motivo o per futili motivi questi due ragazzi da quel momento i riflettori di tutta Italia si sono si sono concentrati accesi sul figlio di papà Giuseppe che lo vedete in questa fotografia ancora con l'occhio sinistro insomma come è fatto con il naso rotto ebbene per prima di un grave fatto di cronaca nera poi esempio di coraggio e di resistenza non violenta perché i ragazzi non hanno opposto resistenza infine di strumento di propaganda a favore del DDL ZAN contro l'omotransfobia tema al centro della politica di questi giorni che ripeto non c'entra nulla perché qui stiamo parlando di un gruppo di giovani giovanissimi probabilmente tutti stranieri ma questo non fa differenza che che hanno già colpito altre volte mi risulta lo so per certo perché ho parlato con una persona che lo ha che ha denunciato alcuni di questi ragazzi sono ragazzi che quando si annoiano o hanno la luna storta quel giorno prendono di mira qualcuno e vanno vanno e cercano un pretesto per attaccare briga quindi per picchiare e così è successo questo giorno ma era già successo era già successo qualche settimana fa quindi le forze dell'ordine che vengono ringraziate poi anche da appunto questo papà dice grazie a chi sta lavorando giorno e notte per assicurare alla giustizia questi vili criminali che continuano a non farci paura beh comunque dunque le forze dell'ordine stanno lavorando stanno lavorando giorno e notte è vero e stanno facendo tutte le indagini ci sono ripeto già alcune denunce su queste persone il problema come sempre è dimostrarlo poi perché io so chi sono tutti sanno chi sono ma poi bisogna dimostrare che era lui che non era quell'altro e per portarli in tribunale bisogna fare così e qui si complica la faccenda ma sanno tutto sanno nomi e cognomi di queste persone quindi si tratta solo di trovare la cosiddetta pistola fumante o comunque l'aggancio per portarli in tribunale e quindi occhi aperti e soprattutto se qualcuno ha visto anche in passato sapone se può contribuire si faccia avanti la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico progetti utili anche ancora al palo ma l'obbligo vale per pochi il reddito di cittadinanza dopo oltre due anni l'avvio a giugno il terzo settore resta a guardare Candela rischia di mandare in fiamme una casa invece l'altra notizia è sempre sulla pagina del Corriere principio d'incendio a Gimarra un quartiere di Fano spento dal pronto intervento dei pompieri in momenti di paura durante la prima serata di ieri quando del fumo nero ed enso ha cominciato ad uscire dall'abitazione lungo la statale Adriatica all'origine di questi episodi ci sarebbe appunto questa candela accesa all'interno di una stanza al primo piano Stalli Blu invece parcheggio a pagamento nella zona del mare di Fano protesta oggi in consiglio comunale Lega e Movimento 5 Stelle presentano una anzi più di una interpellanza orale urgente ascoltate le richieste degli operatori mentre qua sotto Forso Segiore che si trova tra Fano e Pesero frazione dimenticata dalla giunta residenti e operatori vogliono essere coinvolti sulla ciclovia invece progetto di massima le proposte attese dai comuni Montalbini di Forza Italia replica le critiche del comitato contro il nuovo tracciato Morani le primarie per il PD e lei si candida l'ex sottosegretario sferza il partito dobbiamo fare un congresso di rifondazione in cui ognuno sia pronto a scendere in campo poi da Urbino guida turistica al vertice di Confesercenti Urbino Carla Rossi è la nuova responsabilità di zona al suo fianco un comitato di operatori imputato colpito dal Covid udienza rinviata procedimento per un maxitraffico di cocaina alla sbarra sei persone tre albanesi due italiani una donna moldava intercettate al casello con il traffico di droga poi la secessione sarebbe una vera rovina sempre da Urbino l'assessore Cioppi dice andrebbero all'area progetti anche per il turismo già concordati Monte Copiolo e Sasso Feltrio legati alla nostra storia mentre prenota una risonanza magnetica qui parliamo di sanità ad Ascoli in tutto 426 chilometri 67enne di Fossombrone estere fatta la risposta del CUP del centro unico di prenotazione allarme del comitato pro ospedali sotto tentano di bruciare il fondo sintetico del campetto nuovo atto vandalico a piagge dopo i ripetuti appelli contro i teppisti mentre da Pergola gli albergatori scoprono l'itinerario della bellezza a Pergola uno dei diversi tour esplicativi che organizza Conf Commercio mentre a San Costanzo la fontana ripulita anche per il guano dei piccioni i residenti protestano per la sosta irregolare poi a Mondolfo per nuove asfaltature stanziati 200 mila euro su via Monte Ciappellano intervento più complesso anche per quanto riguarda il drenaggio a Senigallia invece Piazzale Morandi tutto all'asta ora il Massi quella che una volta era una zona rinomata è finita in vendita dall'ex Iatta all'altro hotel il Marche e adesso anche due ville mentre ancora malasanità pronto soccorso otto ore per una frattura proseguono i problemi nonostante le rassicurazioni per la mancanza di personale la protesta dei pazienti dal Corriere Adriatico invece la spiaggia blindata contro i vandali i vandali d'estate a mezzanotte cala di sipario la giunta pensa a un pacchetto di deroghe per i bar la lungomare Marconi pedonale dalle otto scusate dalle quattordici alle ventiquattro e chiudiamo con questa notizia che invece arriva da Piobbico sempre sul resto del Carlino gli auguri a questa signora che compie centodue anni nonna Zita Miliffi da Piobbico domani festa per la signora e una vita trascorsa per la famiglia è tutto grazie per averci seguito la rassegna torna domani vi ricordo questa sera alle 20.30 il telegiornale e tra gli appuntamenti alle 18 oggi il rosario in diretta dal Giappone grazie e buona giornata a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti